ciao a tutti amici di the room review ben trovati eccomi qua di ritorno con un nuovo unboxing ed oggi andiamo a scoprire la steelbook di school of rock steelbook che arriva in per i festeggiamenti del ventesimo anniversario del film e che non ci offre nulla di nuovo sul fronte tecnico perché il disco è lo stesso del passato però esce con questa bella steelbook per onorare questo splendido film ve la faccio vedere a figura intera guardate qui che bella steel questo mi ricorda tanto il logo della road runner etichetta che molto famosa per chi ama il metal soprattutto negli anni 2000 il new metal e poi all'interno abbiamo anche una stampa niente niente male che è una delle immagini più iconiche del film questo è il blu ray come potete vedere è lo stesso del passato non ci sono extra gli extra purtroppo sono ancora e sono rimasti sul dvd quindi non separatevi dal dvd vedete ventesimo anniversario del film e poi come vi avevo già preannunciato all'interno abbiamo questa bella immagine interna ovviamente una steelbook che trovate un po ovunque io vi lascio il link ad amazon in descrizione e come sempre se vi è piaciuto questo video mettete un bel like se vi fa piacere iscrivetevi al canale e attivate la campanella per restare sempre aggiornati sull'uscita dei passi unboxing e noi ci vediamo alla prossima ciao ciao a tutti